buongiorno siamo al quarto video di storia del rinascimento oggi parliamo di caterina d'aragona una figura femminile assolutamente luminosa e straordinaria e messa da parte non solo dal marito ma anche di tutti da tutti gli storici di regime le femministe quando si parla di caterina non hanno molto da dire prima di tutto vediamo chi era caterina perché l'immagine tradizionale che gira c'è un quadro abbastanza famoso che ritrae una principessa sburgica non è caterina d'aragona questa è caterina caterina qui era giovane vedova infatti vestita di nero e perché aveva appena perso il marito fin da giovanissima caterina è stata fidanzata al giovane principe di galles e ricco settimo era felicissimo di questa alleanza che rientrava nell'arco più ampio dell'alleanza sburgica ma soprattutto della famiglia trastamara che era una delle migliori sul mercato europeo sul mercato delle alleanze caterina quindi a 16 anni abbandonò per sempre il suo paese e con tutto il suo corteo andò in sposa al principe di galles arturo che aveva un anno meno di lei i due giovani sposi partirono quasi subito per il galles perché già allora appunto questo titolo apparteneva al principe ereditario ma purtroppo non passarono molto tempo insieme perché pochi mesi dopo quattro mesi dopo arturo morì di della cosiddetta sweating sickness malattia del sudore probabilmente fu questa che lo uccise fu un lutto tremendo per l'intera famiglia reale è vero che avevano un altro figlio maschio ma vista la mortalità alta anche nei giovani del tempo non era sufficiente per assicurarsi una successione solida e quindi a quel punto straziati dal dolore erico settimo e la moglie elisabetta di york cercarono di avere un altro figlio ma questo portò alla morte della regina la quale però intanto si era affezionata alla giovane nuora caterina e chiamò la figlia la neonata che morì anch'essa catherine nel frattempo le cose si misero piuttosto male per caterina d'aragona la quale fu praticamente abbandonata dal padre isabella di castiglia morì poco dopo e ferdinando smise di pagare le rate di dote erico settimo si offese e caterina rimase praticamente sola in inghilterra non desiderando tornare a casa non faceva parte del suo carattere in questi anni però si affezionò non solo alla famiglia reale non solo alla suocera ma anche ai fratelli e sorelle del suo defunto marito e possiamo dire che lei e il giovane enrico ottavo il futuro enrico ottavo il giovane principe enrico ebbero diverse occasioni per conoscersi e quindi è vero che si sposarono nel 1509 perché erano innamorati perché erico settimo non era più interessato questa alleanza sburgica e avrebbe volentieri rimandato a casa la principessa enrico ottavo dovette aspettare diventare re per sposare la principessa spagnola e questo infatti avviene nel 1509 quando caterina ormai 23 anni e enrico ne ha 18 il problema è già abbastanza visibile caterina è più anziana avrà meno tempo per realizzare le aspettative di una regina mettere al mondo tanti figli sani con preferibilmente più di due maschi caterina nel tempo in cui rimase a vivere presso enrico cioè fino verso il 1530 31 fu spessissimo incinta partoria almeno cinque volte altri figli li perse prima del parto tutti i neonati morirono a pochi giorni o poche settimane dal parto sopravvisse soltanto una bambina nata nel 1516 che poi sarebbe diventata regina la prima regina a pieni titoli a titolo proprio dai tempi medievali e questa sarà la futura mary tudor il resto alla prossima puntata arrivederci